È una borsa di studio per effettuare un tirocino di due mesi, quindi otto settimane, al laboratorio Trojan Technologies della Western University di London, Ontario, in Canada. Ed è un'esperienza che è stata possibile grazie al contributo dell'ISNAF e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e si baserà nello specifico sulla depurazione delle acque. È un po' il percorso di studi che ho sempre intrapreso, dalla tesi a un master, e quindi questa esperienza è un po' un coronamento del percorso di studi.